signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e questa settimana continuiamo il nostro discorso su tutto quello che riguarda il gruppo dei personaggi giocanti e i giocatori che li controllano questa settimana andiamo a vedere uno di quegli elementi particolari che magari non sono effettivamente codificati nel regolamento magari non appaiono neanche nella lore nell'immaginario di riferimento del gioco a cui state giocando ma in un modo o nell'altro se una campagna comincia a procedere ad allungarsi emergeranno in un modo o nell'altro spontaneamente il titolo lo avete visto parliamo della casa dei giocatori ovviamente non ci stiamo riferendo necessariamente a un'abitazione vera e propria quindi non perdiamo altro tempo andiamo a vedere cos'è la casa dei giocatori e come voi potete utilizzarlo a vostro vantaggio come master cominciamo come sempre cercando di dare una definizione di quello di cui stiamo parlando con casa dei giocatori intendiamo un luogo all'interno dell'ambientazione in cui i giocatori tornano periodicamente quando hanno bisogno di riposare riequipaggiarsi e che ha per loro un forte attaccamento emotivo non deve ovviamente trattarsi di un vero e proprio appartamento anzi potrebbe assumere qualsiasi forma e non necessariamente potrebbe essere un luogo fisico anche se la maggior parte dei casi lo è e in teoria non deve neanche essere effettivamente di proprietà dei personaggi giocanti all'interno del mondo di gioco per essere la loro casa il classico party di avventurieri fantasy potrebbe avere una locanda preferita dove torna alla fine di ogni impresa e quindi di arco narrativo in arco narrativo il master l'ha sviluppata sempre più nel dettaglio e ha sviluppato anche i png che ci lavorano dentro ma il party di avventurieri spaziali potrebbe vivere sulla loro astronave che con quello che hanno guadagnato le varie missioni hanno migliorato potenziato per renderla sempre più veloce più efficace in combattimento non deve nemmeno necessariamente trattarsi di un'unica struttura contigua magari parti di investigatori lover craftiani a ognuno il proprio appartamento in città e in ognuno di questi appartamenti a qualcosa di diverso a casa del professore c'è il laboratorio chimico dove analizzano gli indizi e a casa del poeta c'è la libreria dei tomi proibiti e a seconda di che cosa abbiano bisogno si radunano in un luogo nell'altro anche se all'interno del mondo di gioco si tratta di luoghi nettamente separati concettualmente per come i giocatori li usano sono tutti un'unica base operativa diciamo che l'unico requisito importante che la casa dei giocatori deve avere è quello di essere di importanza sentimentale per i personaggi e anche per i giocatori stessi sia che si tratti di un enorme fortezza ultra difesa carica di armi sia che si tratti di un vecchio carretto dove buttano la roba quando non hanno voglia di tenersela in mano mentre si spostano da un villaggio all'altro la casa degli avventurieri come detto all'inizio è un elemento che prima o poi emergerà spontaneamente dato che a meno che non state facendo un'avventura veramente molto breve prima o poi i giocatori sentiranno la necessità di avere un posto dove far riposare i loro personaggi e dove lasciare la roba che vogliono tenersi ma che non sono intenzionati a portare con sé all'avventura da questo punto di vista non è diversa dal villaggio ne avevamo già parlato in un video precedente ve lo lascio linkato qua in alto è un altro posto dove gli avventurieri si riposano recuperano i loro punti ferita e loro poteri magici le risorse deperibili qualunque siano chiamate all'interno del gioco cui state giocando e in cui magari hanno anche la possibilità di interagire tra di loro o con altri png amici e alleati a differenza del villaggio però la casa è un luogo su cui i personaggi giocanti e di conseguenza i loro giocatori hanno un controllo diretto detto in poche parole i personaggi potrebbero diventare estremamente importanti e famosi all'interno del villaggio del regno della nazione quello che è questo però non gli permetterà di decidere cosa avviene al villaggio o come si comporteranno i png in loro assenza nella casa dei giocatori invece si loro avranno questo tipo di controllo saranno loro a decidere chi c'è e cosa c'è in casa loro e cosa si fa in casa loro anche quando loro non ci sono oltre questo controllo o magari proprio a causa di esso quello che rende veramente importante la casa dei giocatori come abbiamo detto all'inizio e il fatto che non è solo importante per i personaggi giocanti ma anche i giocatori stessi hanno un forte attaccamento verso questo luogo questo elemento più importante per voi come master dato che potete più o meno dare per scontato che qualunque cosa accada alla casa sia in positivo che in negativo innescherà sempre una forte reazione da parte dei giocatori e di conseguenza un grande coinvolgimento da parte dei personaggi quindi per voi diventa un gancio narrativo estremamente facile da buttare contro il party per vedere se abboccano quando il malvagio barone manderà le sue truppe del terrore ad attaccare il villaggio gli eroici avventurieri ovviamente gli si opporranno per difendere i deboli e raddrizzare i torti ma se in quell'attacco dovesse finire bruciata la casa degli avventurieri il malvagio barone probabilmente dovrà cominciare a dormire con un occhio aperto perché non esisterà forza al mondo che impedirà al party di spazzare via dalla mappa sia lui che la sua baronia che questa sia la quest che voi stavate progettando o meno ovviamente i giocatori non sono solo pronti a vendicare qualsiasi danno effettivo percepito a loro casa ma sono anche molto ben disposti ad accettare qualsiasi missione possa portare in qualche modo un miglioramento per la casa stessa e soprattutto in giochi in cui la quantità di tesoro a cui i giocatori hanno effettivamente accesso è limitata o comunque deve essere contenuta per necessità di bilanciamento migliorare a loro casa è un ottimo modo che il master ha per ricompensare i giocatori anche in maniera ingente senza però che questo vada effettivamente a influenzare loro capacità in combattimento dopo che gli eroi hanno salvato il regno il re potrebbe dare loro delle armi magiche come ricompensa ma magari se si tratta di un party di basso livello questo potrebbe del tutto sbilanciare il loro effettivo potere di combattimento al contrario se il re li ricompensasse con una fortezza magari lungo un territorio di confine il party si sentirebbe estremamente gratificato perché sentirebbe di aver guadagnato qualcosa tramite le proprie azioni nel mondo di gioco ma la fortezza di per sé non li renderebbe né più forti né più scarsi in un possibile combattimento tra l'altro nulla vieta a voi come master di dare ricompense del genere anche in maniera indiretta dopo che gli avventurieri hanno finito di ripulire il dungeon qualunque cosa rappresenti questo all'interno della vostra quest oltre il tesoro che normalmente dovrebbero raccogliere potrebbero ricevere come ricompensa il dungeon stesso dopo tutto quella struttura era stata ritenuta un'ottima base operativa per i mostri che gli avventurieri hanno appena sconfitto quindi perché non dovrebbe esserlo per gli avventurieri soprattutto ora che hanno un'ottima idea di quali siano le sue effettive possibilità difensive e probabilmente hanno anche un paio di idee su come migliorarle per evitare qualcun altro faccia a loro quello che loro hanno fatto ai mostri riallacciandosi a quello che abbiamo detto nello scorso video la casa dei giocatori potrebbe anche essere il luogo dove vive o comunque si raduna la fazione dei giocatori questo tra le varie anche un ottimo modo per magari inserire degli elementi gestionali all'interno del gioco se voi i vostri giocatori siete interessati ma anche più banalmente è semplicemente un modo per fare in modo che la casa abbia qualche tipo di effetto benefico al di là di essere un rifugio per i giocatori magari all'interno della base dei giocatori c'è qualche tipo di equipaggiamento struttura che i png del loro seguito possono utilizzare per produrre qualcosa che serve ai giocatori o anche solo in linea generale trovare fondi per mantenere loro stessi e l'intera organizzazione in modo che non pesi tutto sulle spalle dei personaggi giocanti potrebbe anche essere un modo per giustificare la presenza della casa e dell'organizzazione all'interno del mondo del gioco stesso e potrebbe anche dare la possibilità ai personaggi di demandare tutti quegli incarichi che sono effettivamente importanti per la gestione della casa ma che non sarebbe interessante che i personaggi giocanti intraprendano in prima persona all'interno della quest i giocatori probabilmente saranno entusiasti di comandare la loro astronave in battaglia contro i pirati e gli asteroidi che vogliono rubargli il carico e sapere che ogni colpo subito dalla loro nave e comunque un danno diretto alla loro casa darà molto più pathos al combattimento ma una volta che il combattimento sarà vinto e i giocatori avranno portato la loro casa i loro personaggi al sicuro sul pianeta di destinazione delle operazioni di carico e scarico vendita della mercanzia e tutto quello che effettivamente collegato alla logistica ai trasporti non è qualcosa di così epico che magari i giocatori bramino all'idea di far intraprendere in prima persona i loro personaggi ecco questo potrebbe essere tutto demandato ai png della loro fazione che sono l'equipaggio della loro astronave o il personale di terra mentre loro fanno attività molto più eroiche come preparare la prossima missione e prepararsi a combattere i prossimi pirati in questo modo voi potete concentrare effettivamente il tempo durante le sessioni su tutti quegli elementi e quegli archi che sono effettivamente interessanti dai giocatori per giocare e tralasciare tutto il resto senza però lasciare eccessivi buchi di trama comunque buchi nella logica di quello che sta succedendo perché sì i giocatori non stanno facendo questo ma non è stato schippato e perché qualcun altro se ne stava occupando per loro mentre loro impegnati in altro ricordatevi soprattutto che come abbiamo detto all'inizio a meno che la questa non sia veramente molto breve magari una singola one shot magari poche avventure collegate è molto probabile che i giocatori a un certo punto sentano il bisogno di avere un posto loro dove far riposare i loro personaggi all'interno dell'ambientazione e dove tenere la loro roba quindi la casa dei giocatori in un modo o nell'altro emergerà spontaneamente dalla narrazione se siete consci di questo giocate d'anticipo e fate in modo di prevedere quest che siano legate a questo elemento di gioco magari la prima potrebbe essere appunto l'acquisizione della casa stessa da parte del party comunque per questo video già parlato fin troppo quindi per questa settimana la chiudiamo qui e adesso lascio a voi la parola scrivetemi nei commenti qui sotto se voi avete la vostra casa del party col gruppo solo gruppo di gioco come ne la siete procurate se voi come master è un elemento di gioco che prevedete o se siete caduti al però non vi siete mai resi conto che prima o poi i giocatori questa mossa la fanno sempre ovviamente scrivete qui sotto anche eventuali domande e dubbi perplessità se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che avuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al gruppo di discord al server di telegram dove si riunisce la community del master cae e dove metto io le notifiche dei video manualmente per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo al prossimo video